Lo Zibaldone di Giacomo Leopardi è una vera e propria miniera di dettagli, di curiosissimi particolari, che il poeta nota d'un tratto, senza preavviso, in quelle fittissime pagine. Alcuni paragrafi hanno la capacità di presentarci aspetti del carattere dell'autore o aneddoti che egli pone improvvisamente in quelle righe. Così a pagina 184 egli racconta di come gli capita di andare a dormire portando qualche verso nella mente o qualche motivo popolare e di svegliarsi alla mattina pur avendo sognato tutt'altro ancora con quei versi o con quella melodia nella memoria. E scrive, infatti, più volte mi è accaduto di addormentarmi con alcuni versi o parole in bocca che io avrò ripetute spesso dentro la giornata o dentro qualche ora prima del sonno, ovvero con l'aria di qualche cantilena in mente, dormire pensando o sognando tutt'altro e risvegliarmi ripetendo fra me gli stessi versi o parole o con la stessa necessaria nella fantasia. Sono dettagli particolari estremamente curiosi che pure hanno la capacità in qualche modo di portarci nella realtà del poeta, nel lic et nunc, potremmo dire, della sua esistenza.